Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale TV City. In apertura la politica cittadina con la nomina di Cinzia Mirabella come nuovo assessore alla nettezza urbana per il comune di Torre del Greco. Il consigliere Luigi Mele spiega le dimissioni dell'avvocato Marra. E passiamo ora all'emergenza Covid con un weekend folle fra assembramenti nelle piazze e nei lungomare di tutta Italia mentre i contagi continuano ad aumentare. E invece caos sui vaccini degli ultraottantenni a Torre del Greco, ancora disagi, ritardi e problematiche. Passiamo ora alla cronaca con la Guardia di Finanza che nel weekend ha effettuato i soliti controlli per il rispetto della normativa anti-Covid. 115 sanzioni nel napoletano. Ora una buona notizia con i volontari dell'AIC che domenica mattina hanno bonificato la zona antistante e la villa comunale di Torre del Greco. Rifiuti e siringhe sporche raccolte. In conclusione lo sport con la Turis che ottiene la prima vittoria del 2021 contro la Casertana, interrompendo quella che era stata una lunga scia negativa. Questo ed altro nei nostri servizi. E' Cinzia Mirabella, il nuovo assessore alla nettezza urbana e all'igiene urbano. La nomina sarà oggi alle 14. Già consigliere comunale, la Mirabella arriva all'esecutivo con una delega critica per la città del Corallo. A meno di un mese dalla nascita della nuova giunta a Palomba, l'assessore alla nettezza urbana, l'avvocato Imma Marra, ha rassegnato le sue dimissioni. Abbiamo ascoltato il consigliere comunale Luigi Mele che, insieme al consigliere Mario Buono, aveva proposto il nominativo della Marra. Quali sono i motivi che hanno portato a queste dimissioni? Si è dovuto allontanare dalla campania per motivi familiari, perché ha una sorella che non sta bene in salute e quindi è dovuta andare via. Siccome la cosa purtroppo non si risolve in breve tempo, ha deciso di lasciare per non creare problemi, visto che comunque il settore è particolare. E quindi c'è bisogno della giusta attenzione per portare avanti le problematiche da risolvere. Si è già scelta un nuovo assessore, una nuova delega? Si è stata nominata, è stata preparata poco fa dal segretario generale, la nomina Cinzia Pirabella, che i cittadini già conoscono. È una persona che comunque conosce l'ambiente, conosce gli uffici, conosce la città. Quindi abbiamo preferito questa volta dare la possibilità ad una torrese di poter darci una mano e quindi di portare avanti quelle che sono le idee che in qualche modo stiamo creando e formando un gruppo per far sì che tutto si possa risolvere quanto prima possibile. Come ha detto lei, è un settore che ha bisogno di una presenza costante dell'amministrazione, quello dell'ANU. Questo potrà provocare dei ritardi? Purtroppo le cose da seguire sono tante sicuramente, gli uffici sono in difficoltà. La politica, noi che siamo entrati adesso, fa parte della maggioranza e che abbiamo in questo momento la responsabilità di questo settore, abbiamo tante cose da verificare sia nel capitolato sia nel contratto. Quindi si vede, purtroppo in strada non viene eseguito lo spazzamento, c'è tanta spazzatura, quindi in qualche modo dobbiamo trovare il modo per poter risolvere queste problematiche nell'immediato, altrimenti non ha senso. Cosa risponde ai tanti puttorrisi che stanno avanzando polemiche nelle ultime settimane contro l'amministrazione? Diciamo che il risorso è questo, è chiaro, glielo dico a tutti, il problema dell'ANU non è un problema semplicissimo da risolvere. Noi abbiamo iniziato appena un mese fa, stiamo dando gli indirizzi giusti almeno per noi agli uffici, quindi cercheremo ovviamente di portarli avanti nel migliore dei modi. Italia è sempre più arancione, ma la Sardegna diventa bianca. Con la firma dell'ordinanza da parte del presidente Solinas, la Sardegna è la prima zona bianca d'Italia. Fino al 15 marzo, ristoranti aperti fino alle 23, bar e pub fino alle 21 e coprifuoco che slitta dalle 22 alle 23.30, fino alle 5 del mattino. Nel resto del paese, come sottolinea il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, il marzo si prospetta difficile. Contagi in rialzo e scuole chiuse fin dalle elementari anche in zona arancione. Da oggi Lombardia, Marche e Piemonte passano in arancione e Basilicata e Molise in rosso. Negli ultimi giorni di libertà, complice anche il sole che ha illuminato tutto il fine settimana, sono tante le persone che hanno approfittato per godersi le ultime passeggiate, riempendo lungomari e piazze, bar e ristoranti. Caos a Milano, dove i giovani si sono riversati ai navigli per l'ultimo aperitivo tra mascherine abbassate ed abbracci. Come ha scritto su Facebook il sindaco Sala, intorno ai Naviglia, alla Darsena, c'erano migliaia e migliaia di persone. Le forze dell'ordine, tra quelle coordinate dalla Questura e quelle del Comune, erano pari a circa 200 unità. Il numero l'ho ricevuto dal prefetto. E che piaccia o no, si giustifica il primo cittadino, di più non si poteva metterne, perché la città è grande e va gestita nella sua interezza. Tutti esauriti, i ristoranti e i laghi, preso di mira quello di Como e anche al mare, ovunque, tavoli pieni. Muretti, gradini, strapuntini, gremiti dalla ricerca di uno spicchio di sole da mordere. I lidi pugliesi, dall'Adriatico all'Oionio, sono andati a ruba come domenica scorsa. Multati 27 adulti, tra loro medici, avvocati e professionisti vari, sorpresi dalla polizia in un dancing del Casertano a un Covid party, insieme a decine di persone che si sono dileguate. A Napoli ancora folla sul lungomare, nonostante la zona arancione in vigore da una settimana e le raccomandazioni del governatore De Luca. Anche nel centro storico i giovani si sono riuniti come se non ci fossero limitazioni. In Piazza del Gesù, un gruppo di irriducibili ha persino offeso ed aggredito gli agenti e le forze dell'ordine, presenti per pattugliare la zona. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la presentazione del programma nazionale Esiti 2020, intanto, ha ribadito. Da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una curva che risale. Basta vedere i numeri dei contagi dell'ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti. Un centro vaccinale per gli over 80 e non solo a Torre del Greco. La richiesta arriva dal sindacato pensionati della CGL locale, dopo le lamentele e le segnalazioni di familiari e di persone anziane. Dopo la prenotazione sulla apposita piattaforma, gli over 80 sono stati contattati per recarsi ai centri vaccinali di Gragnano e Pollena, con inevitabili disagi logistici e non solo. È assurdo che una città densamente popolata come Torre del Greco, attaccano i rappresentanti sindacali, non abbia un suo centro vaccinale. Attendiamo risposte dall'ASL. Al momento non è ben chiaro se i locali della Santissima Trinità, individuati dall'amministrazione comunale e concessi all'ASL per la campagna vaccinale, saranno utilizzati anche per gli over 80. Stando a quanto dichiarato dal direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, qualche settimana fa, ai microfoni di TV City, in tempi brevi, locali adiacenti alla Chiesa della Santissima Annunziata, dovevano essere attrezzati per la campagna vaccinale. Faremo partire nei prossimi giorni, dalle prossime settimane, il tempo di procedere ad organizzare subito dopo l'accordo i siti con la presenza dei medici di medicina generale, a far partire la campagna vaccinale in maniera più capillare. Naturalmente capite che avere più siti sul territorio, la possibilità di dislocare presso i vari punti geografici di tutta l'azienda sanitaria Napoli 3, vorrà dire una maggiore vicinanza al cittadino, la capacità di avere maggiore forza di erogazione, che magari in questo momento potrà non essere importantissima perché il numero dei vaccini è ancora non altissimo, ma nelle prossime settimane, con l'arrivo di numeri più importanti dei vaccini esistenti e anche degli altri vaccini che sono in fase ultima di autorizzazione, sarà importante avere più dislocazioni possibili. Una situazione denunciata sui social e anche dal Comitato di Quartiere Solidarietà. Costatiamo, ha dichiarato il Presidente Ciro Rutolo, le difficoltà di molti anziani, ovvero 80 di Torre del Greco, per raggiungere Gragnano, e altri comuni per vaccinarsi. Ho già informato il Sindaco e in queste ore farò presente la situazione al Direttore Sanitario dell'Asla, affinché vengano individuate le migliori soluzioni possibili. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure anti-Covid. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1.563 persone e 205 attività commerciali, 115 le sanzioni complessive, comprese quelle situazioni illecite tipicamente di interesse delle fiamme gialle, traspaccio, uso personale di sostanze stupefacenti e condrabbando di sigarette. Il potenziamento dei controlli ha riguardato soprattutto Napoli-Città, a seguito anche delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Più in dettaglio, il gruppo pronto impiego ha sanzionato in Via Toredo cittadini sorpresi in un comune diverso di quello di residenza, senza valido motivo, mentre nei quartieri San Lorenzo e San Giuseppe sono stati sanzionati cittadini in strada senza mascherina. Sempre in città, il secondo gruppo porto all'ingresso del barco Immacolatella ha sequestrato nella notte tra venerdì e sabato tre proiettili, uno spinello preconfezionato e 4.360 euro in contanti, denunciando un cittadino napoletano per detezione illegale di munizioni, oltre che sanzionandolo per violazioni anti-Covid. Lo stesso reparto durante tutto il fine settimana all'esterno dell'area portuale ha sorpreso in piena notte 36 persone provenienti dalle città della provincia che erano state a Mergelina e in altre aree della Movida a trascorrere il fine settimana. Tutte sanzionate, due di esse erano recidive. Il gruppo di Nora, nel corso di un controllo al casello di Napoli Est, ha sequestrato 2,6 grammi di hashish e l'auto sulla quale viaggiava un cittadino rumeno risultava priva di copertura assicurativa. I successivi approfondimenti svolti con l'ausilio della sala operativa del comando provinciale hanno permesso poi di riscontrare che il soggetto doveva scontare due mesi di reclusione per resistenza pubblico ufficiale e furto aggravato sulla base di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno. Il soggetto è stato tratto in arresto oltre che sanzionato assieme alla compagna per violazione anti-covid poiché è residente a Monteforte Irpino, provincia di Avellino e sorpresi nel comune di San Vitaliano senza un valido motivo. Volontari bonificano la Villa Comunale di Torre del Greco Quarta tappa del progetto messo in campo da AEC associazione ecoculturale creata da alcuni giovani torrisi. AEC è un'associazione no profit neonata il cui scopo è quello di mandare un messaggio di sensibilizzazione soprattutto alle nuove generazioni sulle tematiche dell'ambiente e sulle tematiche ecologiche mandando soprattutto un messaggio di poter capire che amare la propria città è un punto di partenza e che convoglia l'educazione civica e poi anche quella ambientale. L'associazione lo fa sia sul campo ripulendo e rivalorizzando i punti caldi sia tramite social con informazioni di divulgazione scientifica. Lo scopo dei volontari è quello di agire attivamente per pulire zone della città troppo spesso abbandonate nel degrado e nello stesso tempo mostrarne l'importanza storica e culturale. Questo progetto il chiamato Cambiamola Noi che portiamo avanti dal giugno dell'anno scorso mira a mandare un messaggio di cambiamento e lo fa tramite la riqualificazione e la rivalorizzazione di quelli che sono sei punti caldi della nostra città molto importanti sia culturalmente che storicamente. Dopo la passeggiata a Portoscala la stazione della Circonvesuviana e le Centofontane domenica mattina i volontari si sono occupati della villa comunale Vincenzo Ceravolo Ovviamente vista la chiusura secondo le ultime normative anticontagio l'AEC non è intervenuta all'interno del parco ma nella zona esterna in particolare l'area antistante il Cinema Corallo e la Casa del Combattente fino alle scale L'intera zona come ben sanno i torresi versa troppo spesso nell'abbandono più totale tra rifiuti depositati indiscriminatamente bottiglie di vetro sporcizia lasciata dai tanti giovani che approfittano dei tanti spazi coperti ed isolati per fare qualunque cosa specialmente in questo periodo per eludere i controlli Dalle 9 alle 13 del mattino una ventina di volontari dell'AEC ha cercato di ripulire l'intera area 10 sacconi di spazzatura per raccogliere i resti dell'inciviltà fra i ritrovamenti più assurdi uno scaldabagno ed un estintore preoccupa invece la presenza di numerose siringhe sporche prova che i spazi più nascosti offrono riparo a chi fa uso di droghe pesanti l'evento si è svolto nel pieno rispetto dell'enorme anticontaggio l'AEC ha distribuito guanti mascherine scope e tutto l'occorrente per l'operazione questa volta è stato allestito anche un gazebo informativo i giovani volontari hanno potuto spiegare le loro missioni i loro obiettivi e distribuire gadget ecosostenibili tanti torresi interessati che hanno potuto conoscere una nuova realtà in cui i giovani in una soleggiata domenica mattina si assumono la responsabilità di pulire ciò che altri sporcano il degrado che chi dovrebbe intervenire fa finta di non vedere inizia nel migliore dei modi l'avventura del nuovo mister Caneo sulla panchina della Turris il neotecnico De Coralini centra la prima vittoria del 2021 nel derby con la Casertana spezza la striscia negativa di nove partite senza successi con un solo punto racimolato in sette partite e riporta a otto i punti di vantaggio sulla Paganese la prima squadra a occupare la zona play-out parte bene la Turris con Romano che chiama la parata il portiere Avella ma alla prima occasione i falchetti passano con Pacilli che di testa anticipa la difesa su un cross dal fondo per il vantaggio rosso-blu reazione immediata dei Coralini con Lorenzini che svetta su un calcio d'angolo trovando subito il pareggio ancora Pacilli si vede respingere una conclusione da un ottimo intervento di Abbagnale e nel finale di frazione Brandi da fuori non trova lo specchio della porta nella ripresa fa il suo esordio il moldavo Bojciuk che ha una nitida occasione da solo in area ma manca clamorosamente il colpo vincente mettendo fuori causa anche i compagni alla mezz'ora fallo di Rillo su Giannone in piena area con l'arbitro che decreta il penalty che lo stesso Giannone trasforma per il sorpasso della Turris la gara resta in controllo dei padroni di casa che sfiorano il Tris nel recupero con un gran tiro di Persano che scheggia la traversa al fischio finale grande entusiasmo della squadra e del tecnico per il primo successo del nuovo anno che restituisce tranquillità a tutto l'ambiente in vista dell'imminente trasferta di domani contro il Potenza Grazie per la cortesa attenzione per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolativusiti.it o al numero di telefono 340 65 61 484 e con questo è veramente tutto vi do l'appuntamento a domani con altri servizi Grazie per la visione